Finalmente siamo con Mario Ferri, l'invasore solitario, non è più tanto solitario, ci eravamo preoccupati dopo un mese di carcere duro a Civitavecchia. Bentornato Mario, da dove vogliamo cominciare? Da questa pena così lunga a cui sei stato sottoposto in Italia, Civitavecchia, al tuo ritorno da Dubai? Incominciamo dalla libertà che è la cosa più bella che ci sia, quando stai in un posto del genere come il carcere capisci veramente le cose importanti che hai fuori. La libertà è una di queste. Poi il mese lì, come dico a molti amici, è stato come andare a scuola, è stata una lezione. Nel senso che ho capito che è un posto dove assolutamente non ci si deve tornare, perché è un posto di punizione, di sofferenza, di frustrazione. Però pensavo peggio, mi sono ambientato bene, ho fatto subito amicizia, è andato tutto liscio. Oggi Mario Ferri è sottoposto a un obbligo di dimora nel territorio di Montesilvano, però è un provvedimento che scadrà tra breve e già si parla di un Mario Ferri candidato per l'isola dei famosi. Non finisci di stupire. Mai, mai, perché devi sempre guardare oltre l'ostacolo. Attualmente l'ostacolo è questo obbligo di dimora nel territorio di Montesilvano, ma diciamo c'è sempre un po' tutto. C'è il mare, ci sono i ristoranti, la palestra, il calcio. Il tempo lo passo discretamente. Poi, diciamo, veramente tanti amici da ringraziare che mi sono stati vicini nel periodo in carcere con le lettere che mi hanno scritto. Lo stesso centro, il giornale di Pescara, dell'Abruzzo, che mi era vicino in ogni articolo. Sono tutte persone che comunque i porterò rispetto per tutta la mia vita. Ecco Mario, quindi l'isola dei famosi è alle porte. Non è ancora ufficiale, ma possiamo dire che ci sono buone possibilità. Qui siamo in un contesto sportivo, l'intervista viene mandata all'interno del nostro contenitore sportivo. Possiamo tranquillizzare, tra virgolette, tutti? Oppure no? Mario Ferri, con le invasioni, ha chiuso? Oppure no? Lasciamo la porta aperta. Perché se andiamo all'isola dei famosi, le invasioni passano... Magari ne farò una in finale di Champions League, poi una... Così, tanto per gradire. Tanto per non perdere il vizio, come si dice. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ma no, no, lasciare una porta aperta. Perché comunque è l'adrenalina che sento dentro di me quando corro in mezzo al campo, 80.000 persone che ti guardano e esultano perché tu ci sei riuscito, è indescrivibile. Lo provo solo io. Anche perché, ricordiamo che tutte le iniziative, anche quelle non perfettamente legali, diciamo così, Mario Ferri le ha fatte in totale pacifismo. Questo è importante. Poi ci sono delle pene che lui ha pagato, ha scontato, e quindi va bene o va male. E così non è nostro compito giudicare. Ci racconti un attimo, tu milanista, a fare invasioni alla finale della Coppa del Mondo per Club dell'Inter, e poi hai fatto anche amicizia con qualche interista, qualche amicizia un po' particolare, no? Allora, va bene, l'invasione Inter-Mazembe, finale di Coppa Intercontinentale, è stata con la sciarpa del Milan, come tutti hanno visto, perché il mio cuore è rosso-nero, e adesso anche Cassano. L'amicizia che è nata con il giocatore dell'Inter, che se ne parla e si sta continuando a parlare di questi tempi, diciamo che è in stand-by perché è un'amicizia particolare, è un'amicizia tra maschietti. Io non me l'aspettavo, appena l'ho conosciuto, io l'avevo conosciuto al Chiambretti Night, la sera, quando ero uscito in un locale insieme a Lele, e mi era sembrato tutto tranne un ragazzo di tendenza, omosessuale, ma non si è dimostrato così in alcuni messaggi che mi sono arrivati ad Abu Dhabi, che ho registrato, ho anche degli amici che mi hanno visto in sua compagnia, io essendo totalmente etero ho rifiutato, e mi sono sentito offeso, non per la proposta, perché ho molti amici omosessuali, e mi erano state fatte pure altre proposte, da amici che non famose, però ho sempre messo da parte, perché mi piacciono le donne. Dici solo le iniziali, dai, non ci dire il nome. Non posso, non posso. È troppo facile. È troppo facile. La nazione? No, è europeo, europeo. È europeo, ci siamo, ci siamo quasi. Mario Ferri, diamo l'ultimo, brevissimo messaggio ai nostri telespettatori. Se va all'Isola dei Famosi, mi raccomando, votatemi. Lo votiamo. Ciao Mario, grazie e bentornato. Grazie.